Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoracci, ritorno di fiamma o no? Le voci su un possibile secondo matrimonio tra i due ex coniugi si sono fatte sempre più insistenti. Tuttavia, il manager piemontese ha smentito categoricamente queste indiscrezioni, confermando che non ci sono nozze in vista. La showgirl calabrese è tornata single dopo la fine della sua relazione con l'imprenditore Giulio Fratini, senza rivelare i motivi della rottura. Nel frattempo, ha condotto il programma Questioni di stile su Rai 2, dove ha avuto come ospite ricorrente proprio Flavio Briatore. I due sono apparsi insieme in pubblico e sui social con il loro figlio Nathan Falco, ribadendo di essere una famiglia unita nonostante la separazione. Briatore ha dichiarato che per lui Elisabetta è famiglia, ma ha escluso qualsiasi ipotesi di matrimonio. La showgirl in un fuorionda ha rivelato di provare ancora gelosia nei confronti dell'ex marito, affermando scherzosamente che se si risposasse lo ammazzerebbe. Tuttavia ha chiarito che non sarebbe favorevole a un eventuale matrimonio dell'ex. Insomma, non c'è alcun ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ma i due mantengono un rapporto molto stretto e continuano a essere legati nonostante la separazione avvenuta sette anni fa. Resta il dubbio sul futuro della loro relazione, ma al momento sembra che la parola matrimonio... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!